Buongiorno, ben trovati appuntamento di sabato 12 agosto 2017 con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa per la lettura dei quotidiani, oggi si ricorda Santa Giovanna, apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, iniziamo con le prime quattro edizioni del centro e partiamo dall'edizione del centro dell'Aquila, eccola qui inquadrata, sede comune, ora i veri lavori, il sindaco Biondi annuncia il via al cantiere, e polemizza con l'inaugurazione farsa di Cialente. A tutta pagina poi con corredo di foto un'intervista al cantante abruzzese Rosetano De Il Volo, Gianluca Ginobile, Abruzzo nel cuore, mare e amici, casa, vi racconto la mia terra. Vediamo anche le altre notizie nelle cronache di spalla, gonfiabili vietati a mio figlio autistico, questa la denuncia che arriva da un genitore sempre dall'Aquila, e poi Avezzano perquisizioni al Galli, indagato Cicchinelli, e poi Sulmona chiusi per crisi 39 negozi in centro storico. Vediamo altre notizie che poi ritroveremo all'interno del giornale, Rogo del Gran Sasso partono esposti a Procure e Corte dei Conti, e poi Scuole d'Ater, il governatore della regione D'Alfonso dice fondi per lavori antisismici, e poi l'economia perché per il gruppo Toto arriva un'importante commessa da 81 milioni di euro nella Repubblica Ceca. Lasciamo la prima pagina del centro dell'Aquila, siamo a quella di Pescara, via la lunga festa di Ferragosto, vedete il titolo in alto, riguarda la notte dello shopping che si terrà questa sera proprio a Pescara, e inaugurerà la festa di oggi, una serie di eventi che culmineranno con i concerti di Alvaro Soler e di Ralf. E poi nelle cronache Cappelle sul Tavo, il Tribunale delle Imprese, dice Borgia e il Presidente della BCC. E poi Montesilvano smantellato laboratorio delle false griffe, poi ancora il problema degli incendi in provincia di Pescara, Bolognano, Roghi, Dolosi, vicino alle case di Musellaro. Vediamo altri titoli, ma sono in pratica quelli che abbiamo visto anche nelle altre edizioni, dunque possiamo andare avanti con l'edizione di Teramo. Del centro, primi 4 milioni per le case Ater, parte la ricostruzione, vedete il titolo in alto, post-sisma i fondi destinati a due palazzi di Colle Atterrato. E poi la cronaca, carambola tra auto, gravissimi due giovani, i feriti sono di Mosciano, questa notizia che arriva da Floriano di Campli. E poi Tortoreto, in lutto morto Panichi, leader degli imprenditori a Campli, retromarcia a metà su donne e porchetta. Chiudiamo con l'edizione del centro di Chieti, il titolo di apertura riguarda l'università, Teneo, bici gratis e servizi high tech, il rettore lancia le applicazioni per gli esami e firma il decreto che caccia del vecchio. Leggiamo qui dal titolo. E poi le cronache, Lanciano, febbre killer, si indaga per omicidio colposo. Ad Ortona, in ospedale Ciboscadente, è super caldo. Vasto, banda del Rolex, ricercato, fermato proprio a Vasto. Vediamo anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo, eccola qui, del messaggero. Il titolo principale riguarda l'operazione di Ferragosto di Pescare. Inizia oggi con la notte dello shopping, la tre giorni di eventi di mezza estate, strade chiuse, parcheggi gratuiti, spettacoli e niente alcol. Ecco come muoversi in città. Ovviamente ci saranno diverse strade chiuse. Sarà importante appunto per muoversi, capire e vedere quali sono le strade, le arterie alternative per potersi muovere. Vediamo in alto anche dei titoli che riguardano lo sport. Partiamo però dagli spettacoli, giorno e notte. Questa è la pagina del messaggero dedicata agli eventi estivi. Bennato e Ranieri a Francavilla. Il Blue Bar canta Napoli, grande successo. Sta avendo l'edizione 2017 del Blue Bar curata da Maurizio Malabruzzi. E poi il calcio di serie C, vi dicevo lo sport, caos calendari per il Terabo, debutto esterno per i Biancorossi a Mestre in casa della neopromossa formazione veneziana. Ma ieri a Pescara sono stati sorteggiati solo i primi tre turni di campionato perché è stato riammesso dal collegio di garanzia il Rende. Dunque per le altre giornate bisognerà attendere il 24 agosto. E poi ancora sport, ancora calcio con il Pescara. Questa sera impegnato a Brescia, allo stadio Rigamonti, in Coppa Italia. Si tratta del primo vero esame della stagione contro una pari grado. E poi sono stati formati i gironi di serie D. Tutte e sette le formazioni abruzzesi sono state inserite nello stesso gruppo. E questa è una bella notizia perché sarà una stagione a tutto derby per le nostre squadre di serie D. Vediamo le altre notizie dalla prima pagina dell'inserto Abruzzo del Messaggero. Dance Festival, Balli in spiaggia, la Maratona di Musica House, altro importante avvenimento dell'estate pescarese. Poi le proteste, trasporti e credito. La CGL lancia l'allarme per la riorganizzazione della tua. Vi preannuncio che tra poco vedremo anche un servizio in merito. Vediamo anche l'articolo di spalla, 14 milioni per le scuole, via agli appalti. E poi l'Aquila, movì da fuori controllo fra droga e risse. E poi vedete questo titolo con corredo di foto, scoperta a Montesilvano, la centrale delle false griff. E chiudiamo con la prima pagina del quotidiano La Città, 4 milioni per colle atterrato. La sistemazione delle palazzine popolari Ater partirà da via Adamoli e da via Giovanni XXIII. E poi anche sul quotidiano La Città ritroviamo la notizia dell'incidente di Floriano di Campli, centrati in pieno, BMW di Traverso sulla strada, due giovani feriti in modo grave. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani regionali, passiamo come sempre a vedere ora i titoli dei quotidiani nazionali che troverete oggi in edicola. Iniziamo con il Corriere della Sera, si parla di politica internazionale, minacce, missili, la crisi coreana, allarma, il mondo, vedete la foto con un soldato sudcoreano davanti ad uno schermo televisivo. E poi Aftar, siamo in Libia, noi non siamo nemici, il generale all'Italia sull'invio delle navi, fiducia tradita, ma non bombarderò, dice il primo ministro libico. E poi Repubblica del Rio, impugneremo i condoni facili, abusimismo, intervista al ministro delle infrastrutture, controlli sulle sanatorie di tutte le regioni. Poi in alto l'Europa delle uova al veleno, coinvolta anche l'Italia, scattati sequestri di milioni di uova in diversi paesi europei. Siamo al quotidiano La Stampa, Libia nelle celle dove finiscono i migranti respinti, viaggio del quotidiano torinese nel cuore nascosto di Tripoli, poliziotti violenti, poi torture e soprusi. E poi invece cambiando decisamente pagina, vedete questa foto in alto, Milano reinventa le periferie, le associazioni di volontari lavorano contro il degrado della città. E siamo al sole 24 ore, si parla di temi economici e finanziari, soprattutto del risparmio, vedete il titolo in alto, in sei mesi il PIR a quota 5 miliardi. Lasciamo il sole 24 ore, ci spostiamo al fatto quotidiano, scuola, le imprese si scrivono la legge su panini e menze, la ministra Fedeli è una dei firmatari, il pranzo sia un momento didattico mega a fare, da 1 miliardo e 200 milioni, questo è il titolo del fatto quotidiano, il titolo principale. Il messaggero di Roma, Atac, come all'Italia, agire subito, l'intervista al ministro dei trasporti del Rio. E poi vediamo altri due titoli che abbiamo visto anche sugli altri quotidiani, nuove minacce giù i mercati del dollaro, Corea e Stati Uniti spaventano le borse, la Russia rinforza la difesa aerea e poi uova contaminate in 15 paesi, l'Unione Europea dice a rischio, anche l'Italia. E siamo al tempo, altro quotidiano romano, da Fiumicino a Termini, così Roma fa fuggire i turisti. E poi il rapporto shock di Lega Ambiente, vedete a centropagina, nel Lazio, le coste più sporche d'Italia. E siamo al manifesto, Kim e Trump si bombardano a parole, crisi coreana, cresce la tensione, ma Pechino media e Washington negozia. Siamo all'avvenire, quotidiano della CEI, codice d'intesa per quanto riguarda le organizzazioni non governative, il Viminale precisa le regole su armi e trasbordi di persone soccorse. E poi vedete anche su avvenire altri due titoli, i titoli principali della giornata di oggi, la grande frittata olandese, uova contaminate in Italia, e poi il duello tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti, Merkel e la Cina, cercano di smorzare. Siamo al quotidiano libero, miracolino economichino, questo è il titolo un po' ironico di libero, 875 mila assunzioni entro ottobre, nonostante i governi abbiano fatto di tutto per massacrarli, i piccoli imprenditori italiani sono riusciti a crescere e a creare, questo è il titolo principale di libro, poi vedete quest'altra storia, quando i sentimenti spingono al sacrificio, morire per salvare il cane, la ragazza finita sotto il treno nel tentativo di proteggere il suo amico a quattro zampe, ha dato una lezione a coloro che abbandonano o maltrattano gli animali. Siamo al quotidiano La Verità, in Italia crescono solo le aziende dei Renzi, scrive La Verità, durante il regno del rottamatore le piccole imprese hanno aumentato i fatturati solo del 2%, e poi vedete quest'altra foto, quest'altra foto con i ritratti di Giancarlo Perna, Saviano il profeta prigioniero del proprio mito. E poi siamo al secolo XIX, il quotidiano genovese, in alto allarme uova all'insetticida, primi sequestri anche in Italia, dall'Olanda bloccati i 250 quintali, e poi nella prigione dei migranti indesiderati, anche il quotidiano genovese, come la stampa, fa questo viaggio nella prigione dei migranti in Libia, un viaggio nell'inferno fra torture, fame e umiliazioni. Siamo al mattino di Napoli, Tirreno in furia, Odontoiatra annega per salvare la figlia, questa tragedia che arriva da Castellabate, poi a centropagina i titoli invece di carattere nazionale, boccia di Confindustria, presidente dice Job Act anche nel pubblico, poi caccia alle uova, contaminate, infine la crisi, USA-Corea, Mosca teme la guerra. Questo era l'ultimo quotidiano nazionale che abbiamo esaminato per quanto riguarda le prime pagine. A proposito di quotidiani nazionali, vedete già alle mie spalle inquadrata la Gazzetta dello Sport, perché possiamo andare a vedere le prime tre pagine dei quotidiani sportivi, iniziamo proprio dalla Gazzetta, con gli ammutinati del mercato. Vedete questo titolo, diciamo, di taglio centrale, è una tendenza, scrive la Gazzetta, a ribellarsi per cambiare maglia. E vedete alcuni dei giocatori mascherati in questo disegno della Gazzetta, tra cui Dembélé del Borussia Dortmund, Spinazzola dell'Atalanta, con dobbia dell'Inter e continuo del Liverpool. Ma in alto, leggiamo altri due titoli, il primo riguarda le qualificazioni mondiali, Ricardis-Calza-Higuain, Argentina il sorpasso di Maurito-Sampaoli, lo preferisce alla Pipita per quanto riguarda le convocazioni per i mondiali, dunque il giocatore della Juventus è stato escluso dal commissario tecnico argentino. E poi la Coppa Italia, perché come abbiamo visto sul messaggero prima, questa sera ci saranno le gare di Coppa, il Pescara, come abbiamo visto, giocherà alle 20.30 al Rigamonti di Brescia, ma ieri si è giocato un anticipo con, diciamo, punteggio tennistico, il Torino ha battuto il Trapani con il risultato di 7-1. Andiamo a vedere la prima pagina del Corriere dello Sport. All'Inter, dopo un'estate senza squilli, si infiamma il mercato nero-azzurro, in alto domani Supercoppa, riecco la Juve, piglia tutto, 11 trofei su 15 in 5 anni, Lazio, la sorpresa è Keita. E chiudiamo con tutto sport, fuga per la Juve, vedete in alto due giorni di allenamenti a parte, e ieri niente amichevole a Valencia, Spinazzola forza la mano per andare subito da Allegra, abbiamo visto anche sulla gazzetta, e poi Toro Show, una Coppa da sogno, spianato il Trapani in Coppa Italia, formazione siciliana, battuta per 7-1. Lasciamo i quotidiani sportivi, possiamo tornare a questo punto al centro, per andare a vedere le pagine interne del quotidiano abruzzese, disastri d'Abruzzo, a pagina 2 si parla degli incendi, soprattutto dell'incendio di Campo Imperatore, perché partono gli esposti, vedete De Santis, Procura dell'Aquila e Corte dei Conti, dice l'esponente del Forum dell'Acqua, accertino le responsabilità per il rogo del 5 agosto, interrogazione di Pezzopane, sui mezzi anti-incendi, e domani ci sarà la Sagra della Pecora, vedete, a Villa Vallelonga, vedete questo titolo che vi abbiamo sottolineato, il WWF chiede più controlli, proprio per questa manifestazione, e poi in basso, vedete, c'è questo articolo invece che riguarda scuole e case popolari, 20 milioni per l'adeguamento sismico fra gli edifici interessati, l'Ipsar di Villa Santa Maria e il liceo Cotugno dell'Aquila, andiamo avanti, nella Marsica il rogo fa strage di animali, vedete in alto, i boschi a ridosso del Parco Nazionale bruciano da giorni, e poi Consiglio regionale, fondi per combattere gli incendi, e per la nuova carta delle valanghe, in basso si parla di mobilità, perché il gruppo Toto moderna l'autostrada Praga-Borno, contratto da 81 milioni per i lavori sulla principale arteria della Repubblica Ceca. Andiamo avanti, l'Abruzzo nel cuore, Gianluca Ginobile, il cantante del Volo, si racconta in questa intervista e dice sono felice quando canto e guardo le mie colline, che sono le colline di Roseto. Siamo alle pagine delle cronache provinciali, partiamo da Pescara, dalla lunga festa, il ponte di Ferragosto, fra shopping e musica, oggi negozi aperti fino alle 3, niente auto in centro, domani concerto di Alvaro Soler, poi due giorni con l'Adriatic Dance Festival, e DJ Ralf, re della musica, Aus, vedete questa cartina, con tutte le strade di Pescara, interessate dalla chiusura, perché impegnate con questi eventi, che dureranno 4 giorni, e poi gli stabilimenti, gli stabilimenti balneari di Pescara, cibo e musica in spiaggia, grigliate e schiuma party, proposte e tariffe per ogni gusto, e poi stasera nel Chiostro di San Francesco, a Città Sant'Angelo, ci sarà la chitarra di quercia, e per quanto riguarda i musei, casa d'annunzio a Pescara, sarà aperta il 14 ed il 15 di agosto, ente manifestazioni pescarese, chiusura con il tango, stasera all'annunzio, l'ultimo spettacolo di danza, di una stagione con il 23% in più di presenze. Andiamo avanti, siamo sempre alle pagine della cronaca di Pescara dal centro, gli interventi per il 2018, il comune vara il piano sociale, più servizi e 20 assunzioni, dopo 11 anni via libera, della giunta al nuovo progetto, si punta sull'integrazione socio-sanitaria, previsti interventi per le famiglie, anziani, disabili e immigrati, attenzione anche alle periferie, ci saranno più soldi per le politiche sociali del comune di Pescara, politiche attive, non più semplici assistenza, hanno detto il sindaco di Pescara Marco Alessandrini e l'assessore alle politiche sociali Antonella Allegrino. Allora noi possiamo andare a vedere dunque il primo servizio di questa mattina proprio sulla presentazione del nuovo piano sociale al comune di Pescara. Dopo 11 anni si fa un nuovo piano sociale, il precedente è datato appunto 11 anni fa, è stato rinnovato per 11 volte. Questi 11 anni è cambiato il mondo, c'è la necessità di dare una risposta complessiva sul fronte socio-sanitario. A questo è servito il lungo viaggio che è stato intrapreso per arrivare alla presentazione di questo piano sociale attraverso una plurima serie di incontri, 23 per la precisione sono stati, che si sono tenuti con tutti i soggetti portatori di interesse. È un documento molto importante in cui lo evidenzio subito ci sono più soldi perché il complesso dei servizi socio-sanitari è riuscito a drenare ulteriori risorse per 2 milioni e siamo a complessivi 13, essendo in grado di intercettare progettualità a vario livello, da quello nazionale a quello europeo, oltre a fondi regionali. E quindi oggi per questo riteniamo sia un giorno importante perché non succedeva da 11 anni. Si riparte per il triennio 18-20, questo atto dovrà essere sottoposto al voto del Consiglio Comunale, nel frattempo lo presentiamo, frutto di un lavoro che ha visto il coinvolgimento di vari soggetti, anche l'accordo con i sindacati per intenderci, e oggi spieghiamo nel merito di cosa si tratta. I bisogni crescono, però le risorse aumentano in questo caso perché si è stato in grado di sviluppare una progettualità. Dove vanno questi soldi? Vanno per fornire una risposta la più omogenea e la più intersettoriale rispetto ai bisogni sociosanitari. Non è un caso che proprio tutti questi attori siano presenti alle mie spalle nell'odierna giornata di presentazione alla stampa. Noi restiamo alla cronaca di Pescara, alle pagine di Pescara, perché appello dei nonni vigili ieri mattina in Comune fateci lavorare, non è stato ancora pubblicato il bando per il servizio davanti alle scuole che ora rischia di saltare. Sono stati i consiglieri della lista, Teodoro per Pescara, portare avanti questa richiesta, questo appello dei nonni vigili. Noi nel prossimo servizio andiamo ad ascoltare proprio l'esponente, il consigliere comunale della lista Teodoro, Massimiliano Pignoli. Consigliere Pignoli, il Comune di Pescara non ha rinnovato i bandi per il servizio del nonno vigile. Oggi in conferenza stampa voi contestate questa decisione carte alla mano. Si diceva che c'era un problema amministrativo dopo che il Governo ha tolto i voucher. Noi questa mattina abbiamo dimostrato esatto contrario. Dove aver fatto una ricerca sui vari comuni abruzzesi, quindi non ci siamo neanche tanto allontanati, siamo rimasti in Abruzzo e abbiamo visto ad esempio che il Comune di Roseto rispettando la legge li continua ad avere. Quindi mi chiedo a me stesso che la politica e quindi nel caso specifico l'Avvocato Blasioli che è il Vice Sindaco e anche Assessore del Personale non ha ritenuto secondo noi di poter fare il bando perché quindi è una volontà politica e non amministrativa. Quindi voi cosa chiedete all'amministrazione comunale? No, non chiediamo nulla. Adesso presenteremo noi la delibera in Consiglio Comunale da semplici consiglieri per l'istituzione di un servizio di nonno vigile per cui questo servizio speriamo di farlo ripartire nel più breve tempo possibile. Quanti erano i nonno vigili a Pescara fino allo scorso anno? Erano 45, 45 persone bisognose perché per partecipare al bando praticamente era richiesto il modello ISE. Più basso era il modello ISE e che poi è lo stato patrimoniale della famiglia e più possibilità avevano di poter entrare all'interno di queste scuole. Era un piccolo aiuto che il Comune dava anche questo ovviamente grazie all'aggiunta Alessandrina è venuto meno. Andiamo avanti sempre dalle pagine di Pescara e della provincia dal centro. Elezioni contestate. Il Tribunale delle Imprese dell'Aquila dice e borgia il presidente della BCC respinto dai giudici aquilani il ricorso dei sostenitori della lista Falconio il contenzioso verteva sulla nomina dei vertici dell'istituto nell'aprile 2015. E poi una notizia di servizio che riguarda gli uffici postali che saranno aperti a Pescara anche lunedì e 14. Dunque non ci sarà nessun ponte per quanto riguarda gli uffici postali. E poi Cristiano, una morte evitabile, troppe tragedie nell'edilizia, la filea CGL lancia l'allarme sulle morti sul lavoro. E poi cambiando argomento la consigliera provinciale, Annalisa Palozzo, supera i test da amministratore. Andiamo avanti, andiamo avanti con un'altra pagina che riguarda Pescara, fiamme nel parco Paura in via Moro, Sandonato a fuoco materiale abbandonato nell'area verde, forse una sigaretta, la causa del rogo, danneggiati gli alberi. E poi litiga con i genitori e se ne va, ma è ai domiciliari arrestato. E poi in basso gli arbitri pescaresi al meeting in Austria. Ci si prepara dunque alla nuova stagione. Siamo alla pagina dell'area metropolitana, Francavilla, Sirena appaltati i lavori di demolizione, l'amministrazione Luciani corre e assegna l'opera ad una ditta Umbra per 143 mila euro. E poi sempre a Francavilla, domani i concerti, intervista a Sirianni, Max Manfredi, in basso tartaruga ripescata già morta fra gli scogli del Lido Isola a Spoltore, i liti fiscali al via la rottamazione. Proseguiamo, pagina di Montesilvano, lotta alla contraffazione, la finanza smantella laboratorio di false griff e poi di spalla, vedete, progetto finanziato, fotovoltaico e lampade a LED in arrivo nel centro Trisi. Andiamo ancora avanti per vedere la pagina di Chieti del quotidiano il centro, università, bici gratis e app per gli esami, nuovi servizi agli studenti e il rettore Caputi firma il decreto che manda via l'ex direttore generale senza esito la diffida di Del Vecchio per tornare al suo posto, per lui si chiudono le porte del rientro. Poi ci spostiamo in provincia, prima d'Ortona, dove c'è la protesta per il cibo scadente del caldo, il caldo super in ospedale, a Vasto per l'arresto di un rapinatore della banda dei Rolex. Proseguiamo con la pagina dell'Aquila, il caso all'Aquila confiabili vietati a mio figlio autistico, la denuncia di un padre su Facebook che ignoranza temevano il contagio. La responsabile dei giochi dice un equivoco. E dunque, questo è il titolo di apertura e poi ci spostiamo nella Marsica, prima Celano, la soprintendenza dice il castello è gestito dal polo museale, turisti infuriati a Celano e poi ad Avezzano cibi scaduti, chiuso negozio etnico dei carabinieri del NAS. E poi, in basso, tornando all'Aquila, poste devono rimborsare 93enne, anziana derubata di Bancomat e PIN da un finto alpino che prelevò 4.000 euro. E poi, a Tagliacozzo, Tanniche in piazza, dateci l'acqua, lo chiedono i residenti di Marsia. E siamo alla pagina di Teramo del centro, pubblicità e polemica, il post riparatore, uomini associati alla porchetta, mezzo dietro fronte, dopo il paragone fra panino e donna, gli organizzatori invitano le principali accusatrici alla Sagra di Campli, il tentativo non le convince del tutto. E poi la cronaca, Floriano di Campli, schiantro fra auto, ragazza in coma e altri due feriti. in basso, Tortoreto, il Tarra, riaccende la musica del Manacara. Andiamo avanti, ma siamo già arrivati alle pagine dello sport, dunque possiamo iniziare a vedere qualche pagina del messaggero Abruzzo, saltando ovviamente quelle di cronaca nazionale che abbiamo visto ampiamente nelle prime pagine dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Abbiamo visto in apertura di mattino 6 anche le pagine, la prima pagina dell'inserto Abruzzo, ora tra qualche istante andremo a visualizzare le pagine interne del quotidiano, ovviamente nel suo inserto abruzzese oggi in edicola. Vediamo la pagina 2, abbiamo già visto la prima pagina, l'estate delle proteste, bando o società in house sui bus regione in ritardo, si avvicinano le scadenze per la scelta sull'affidamento del servizio pubblico, accuse e timori della Filt CGL dopo la società per azioni unica si rischia un nuovo spezzatino e noi su questa preoccupazione della CGL andiamo ad ascoltare il segretario regionale proprio della CGL della Filt CGL Trasporti Franco Rolandi. Rolandi, si parla di riorganizzazione del trasporto pubblico regionale alla luce di importanti scadenze. Sì, le novità normative introdotte per le società partecipate per i servizi pubblici locali impone a tutte le regioni una scelta rispetto all'affidamento dei servizi tramite gara operazione che va fatta entro il 31 dicembre di quest'anno oppure di optare verso l'affidamento in house ad una propria società. In questo secondo caso l'operazione va fatta entro il 30 settembre. Sia nell'uno che nell'altro caso il fatto di non rispettare queste importanti scadenze determina delle penalizzazioni in termini di risorse per ogni regione in adempiente. Quindi il primo obiettivo da cogliere è quello di evitare queste penalizzazioni e quindi di procedere alla riforma nei tempi stabiliti dalla legge. Voi siete preoccupati però in generale per il futuro dell'azienda regionale di trasporto? Sì, siamo preoccupati perché dopo aver fatto tanto per dare origine all'aggregazione delle tre società e aver dato origine alla nascita di TUA adesso la regione ci propone unitamente all'affidamento in house anche la predisposizione di uno spezzatino quindi fondamentalmente a due anni della nascita di TUA si vuole separare i servizi commerciali dalle attività di trasporto pubblico locale affidando questi servizi commerciali ad una società che invece andava chiusa ovvero Sangritano S.p.A. Quindi a questo punto quali sono le vostre proposte? Ma noi abbiamo già espresso la nostra netta contrarietà sia in occasione delle commissioni consigliari regionali quindi sia davanti all'opposizione che davanti a chi governa questa regione lo abbiamo ribadito davanti al consigliere delegato D'Alessandro noi ribadiamo che siamo assolutamente favorevoli all'affidamento in house dei servizi e alla società regionale dei trasporti ma vorremmo che ci fosse una maggiore razionalizzazione quindi includere nell'azienda unica anche altre società partecipate quale ad esempio Lama che è la municipalizzata dell'Aquila la Cerella di Vasto e la società Sistema che si occupa della vendita e distribuzione dei titoli di viaggio questo è il servizio sulla conferenza stampa ieri della CGL riguardante proprio la riorganizzazione della tua noi ora ci fermiamo per qualche istante poi torneremo in studio come sempre per la seconda parte di mattino 6 di nuovo in studio per la seconda parte di mattino 6 avevamo esaurito la lettura delle pagine del centro siamo all'inserto Abruzzo del messaggero ripartiamo da Pescara si parla di notte bianca di shopping e divertimento tutto pronto per l'appuntamento più atteso dai commercianti strade chiuse dalle 18 alle 3 aperte la riviera via Carducci e poi a seguire la due giorni di Dance Festival con DJ Raff che aprirà la moratona di musica house e poi la sorpresa a Francavilla dove è stata ritrovata una tartaruga gigante morta proprio a ridosso della battigia andiamo avanti andiamo a vedere la pagina sempre della cronaca di Pescara scoperta la centrale vedete delle false griff questo è il titolo di apertura la finanza denuncia un senegalese e sequestra centinaia di pezzi contraffatti la base operativa era nelle vicinanze di via Riosto a Montesilvano qui si rifornivano gli ambulanti e poi piano sociale risorse per 13 milioni e servizi raddoppiati per i poveri abbiamo visto poco fa il servizio e poi in basso lo scontro politico un posto in giunta per Gianni Teodoro il sindico convoca i suoi di Odati rischia l'attuale assessore ai tributi alle finanze e allo sport poi fiamme dolose tra il verde e i palazzi paura e danni al parco dell'accoglienza a Pescara siamo alla pagina dell'Aquila di Amici Sodissia senza fine ricorso al Consiglio di Stato il provvizio trovato alle opere pubbliche contro la sentenza del Tar favorevole alla MGM l'ira della ditta che aveva vinto l'appalto a chi giova procrastinare così i lavori questa la domanda e poi di spalla riparazione case e arriva il metodo forfait decreto usra per sbloccare le pratiche ancora ferme il sindaco Biondi dice obiettivo velocizzare e poi guardia di finanza al nucleo tributario cambia il comandante subentra il tenente colonnello Maione e poi in basso pallavolo un'aquilana a proda in serie A si tratta di Barbara Murri che giocherà con il Marsala in serie A2 andiamo a vedere l'altra pagina dell'Aquila sempre dal messaggero droga e botte movita fuori controllo preoccupa il canale dello spaccio presi due giovani e poi la protesta mianto abbandonato e allarme nuovo caso a Piazzetta San Benedetto e poi a Lucoli incubo piromani incendio minaccia negozi e abitazioni andiamo avanti per arrivare alla pagina di Avezzano e Sulmona partiamo dalla Marsica ad Avezzano al Gallo sequestrati locali e documenti indagato Cicchinelli il politico Trasaccano interrompe lo sciopero della fame e sostiene di aver ottenuto quanto richiesto si ipotizza l'occupazione abusiva scusate e poi sempre ad Avezzano l'ultimo saluto ieri ad Irma Bianchi fondatrice dell'Università della Terza Età sempre ad Avezzano Bliz del Nasse chiuso il negozio di alimentari a Villa Vallelonga Sagra della Pecara in campo la regione ad Avezzano apre Megastore con 15 assunti in basso ci spostiamo in Valle Peligna Sulmona sul punto nascita solo allarmismi e poi a Villa Scontrone torneo di Dama per ricordare Nino di Guilmi proseguiamo con la pagina di Chieti dal messaggero le tasse scendono si pagano allo scalo teatro e servizi lascia Palazzo De Pasquale trova accoglienza gratuita alla delegazione comunale nella parte bassa della città la decisione legata ai problemi di agibilità dell'edificio di via Vicoli disagi in vista per i contribuenti del colle poi in università abbiamo visto anche dalle pagine del centro ad annunzio nuovi servizi per gli studenti fuori sede poi nuova autostrada da Praga a Brno Toto vince un appalto da 81 milioni di euro e poi le buone azioni doniamo quei soldi al piccolo Samo e l'azienda di Maniago vicino Pordenone rinuncia al credito con la Seraioco in favore del bimbo rimasto orfano siamo alla pagina di Lanciano vasto ortona partiamo da Lanciano il preside Orecchioni e il mastro giurato per me è un onore l'emozione e l'orgoglio del professore per il ruolo ottenuto sollievo per la conferma della location delle torri montanare e poi a Tortona spiaggia libera vedete l'articolo di spalla devastata di notte andiamo a vedere altre notizie a Vasto banda dell'errorex un arresto e poi incendio doloso a Paglieta sterpagli a fuoco badante nei guai e poi turista scomparso ricerche nel vastese famiglia in ansia Andrea del Piano romano 36enne era in residenza a Termoli la sorella chiede aiuto proseguiamo per arrivare alla pagina che riguarda Giulianova Roseto e la Val Vibrata per quanto riguarda sì proprio il litorale Terramano il mare di Giulianova supera anche l'esame di agosto l'arta conferma risultati positivi in tutti i punti di campionamento forcelle 16 avviati verso la riconquista della bandiera blu nel 2018 e poi a Tortoreto si è spento panichi patron del premio Terramo a Giulianova invece la cronaca scippata nel sottopasso la polfer ritrova una ragazza Martinsicuro blackout e carenza idrica quanti disagi il sindaco Vagnoni si scusa con cittadinanza e turisti è mancata dice la manutenzione e poi tornando a Giulianova e tornando ancora una volta alla cronaca Pacco di Mariana recuperato sulla spiaggia siamo arrivati alla pagina che riguarda giorno e notte estate andiamo a vedere dunque alcuni degli appuntamenti proprio a ridosso del Ferragosto Bennato e Ranieri Napoli a Francavilla i concerti dal vivo sono la loro specialità e non mancherà l'ironia dunque due grandi appuntamenti a Francavilla al mare con Bennato e Ranieri ci sarà anche un omaggio doveroso al cantautore napoletano Pino Daniele e poi Riondino e Nata Star di Spoltore Ensemble quest'altro appuntamento che si tiene proprio a Spoltore e a Pineto ex octago aspettando gli after hours di Agnelli ci sarà l'appuntamento con la edizione del 2017 con Pinettinie moderne e poi Giorgio Pasotti il re della fiction e l'omaggio all'Abruzzo dunque tanti appuntamenti per quanto riguarda l'estate abruzzese ne vediamo degli altri nella parte bassa della pagina a Tortoreto ci sarà la rievocazione del palio del Barone siamo arrivati alle pagine dello sport ma dobbiamo ovviamente andare a vedere insieme le pagine interne del Quotidiano della Città partiamo dalla pagina che riguarda la cronaca regionale piano dei rifiuti approvato dopo dieci anni leggiamo qui a pagina 3 del Quotidiano della Città tra gli obiettivi il raggiungimento del 70% di differenziata entro il 2022 e nessuna possibilità per l'inceneritore e poi montagna sette mesi dopo la tragedia di Rigopiano vedete questo titolo di spalla la regione Vara ha un nuovo piano Valanghi vedete questo titolo che in pratica ci fa tornare indietro alla tragedia del 18 gennaio scorso quando morirono 29 persone proprio nel crollo dell'albergo di Rigopiano in seguito alla Valanga proseguiamo scuole sicure meglio MASP resistenti e integrabili con il Polo siamo a Teramo il comune vorrebbe gestire l'appalto della nuova scuola acquaviva per avere strutture che durino nel tempo il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi dice la provvisorietà dei MASP dipende dal tipo di utilizzo serviranno almeno dieci anni per sistemare le scuole poi il progettista Piero Aquilini aggiunge bisogna scegliere in maniera intelligente strutture in legno e acciaio pronte in 100 giorni andiamo avanti l'allarme degli architetti non si può svuotare il centro l'ordine chiede di coniugare l'emergenza causata anche dai ritardi con uno studio del tessuto socio-economico per evitare errori fatali e questa la richiesta dell'ordine degli architetti di Teramo proseguiamo sempre a Teramo restiamo dunque sempre nel capoluogo aprutino 4 milioni per le case popolari di colle atterrato questa notizia che abbiamo ritrovato anche sugli altri quotidiani la ricostruzione partirà dal civico 77 di via Giovanni 23 e dal civico 48 di via Gelasio Adamoli e dunque una notizia importante spostandoci nella parte bassa della pagina cinghiali negli orti urbani di Carapollo l'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe chiede di estendere il periodo di caccia scomparsi fondi regionali per gli asili nido il consigliere Paolo Gatti critica la maggioranza 32 comuni ancora in attesa dal 2015 appena Sant'Andrea indici sismici niente male per le scuole comunali e poi sanità la regione vedete questo titolo di spalla sulla parte bassa della pagina la regione sblocca 127 assunzioni alla ASL di Teramo buona notizia dunque per quanto riguarda proprio Teramo e la ASL a Brutina proseguiamo andiamo a vedere altri titoli che riguardano le cronache da Teramo e provincia siamo proprio la pagina della provincia la cronaca tre giovani feriti nello schianto di Floriano di Campli BMW finisce di traverso sulla strada provinciale 17 viene colpita in pieno da una Renault Clio occupanti giovanissimi e poi la provincia sospende alcuni servizi per Ferragosto rimane aperta la sede centrale di via Milli per i servizi di protocollo e la sede della polizia proseguiamo siamo alla pagina della Val Vibrata la Teramo che lavora piange panichi l'imprenditore tortoretano è scomparso a 54 anni a causa di un attacco cardiaco e poi a Sant'Egidio altro lutto per la morte di Angela di Lodovico in basso cronaca ancora incendi a Valle Castellana forestali sulle tracce dei piromani vedete questa notizia con corredo di foto questa collina con del fumo in lontananza il Tar riaccende ancora la musica del Manacara siamo a Tortolero sempre in Val Vibrata accolta all'istanza urgente contro il provvedimento del comune che imponeva lo stop di 15 giorni e poi Martinsicuro torna lunedì la ventesima edizione della regata storica in basso rifiuti Antelli confermato alla presidenza della Poliservice siamo in Val Vibrata rielezione del presidente in carica da parte dell'Assemblea dei Soci e dall'Unione dei Comuni pagina di Giulianova l'ultima lezione della professoressa di Liberatore insegnante di storia e filosofia al Curie ed ex assessore provinciale è scomparsa improvvisamente a 70 anni ancora cronaca da Giulianova e da Mosciano anche a Giulianova l'erba viene dal mare un sacco bianco vedete con 10 chili di marijuana sulla spiaggia del Lido Portofino era successo un qualcosa di simile qualche settimana fa intorno a metà luglio anche lungo le spiagge di Pescara Francavilla e Montesivano dove la corrente aveva spinto proprio sulla battigia dei pacchi di droga e poi igiene pubblica firmato il protocollo per la pulizia delle Porto Giuliese in basso scappa di casa minaccia il suicidio salvata dalla polfera prensione a Giulianova per una 15enne rintracciata in poche ore dagli agenti e poi in basso ancora sanità il sindaco coglie al balzo le parole dell'assessore sul potenziamento dei presidi rivieraschi Mastromauro sindaco di Giulianova sfida sull'ospedale costiero infine a Giulianova vedete questo articolo torna l'infiorata di piazza fosse Ardiatine proseguiamo con la pagina di Roseto Pineto Atri e Silvi città e frazioni lasciate all'abbandono siamo a Roseto Ciancaiono attacca sulla pulizia delle aree pubbliche l'amministrazione si rifiuta di affrontare il problema dice e poi la polemica sul consiglio abbiamo chiesto il rinvio perché tutti i consiglieri erano stanchi ancora Roseto destra sociale al fianco delle opposizioni sul caso delle strisce blu da Roseto ci sposiamo ad Atri in basso a rischio i fondi per la messa in sicurezza della scuola elementare l'allarme lanciato dal comitato dei genitori per i lavori che a distanza di diversi mesi non sono stati ancora avviati siamo alla pagina della cultura al tavolo con la meglio intelligenza Rosati Greco Giubberosse Viaggio nei caffè letterari che hanno fatto la storia e poi i critici Sgarbi e Strinati a Castelli per il festival della storia dell'arte questo festival che si tiene a Castelli e che vedrà la presenza di due importanti critici come Vittorio Sgarbi e Claudio Strinati dunque appuntamento da non perdere in basso vedete nuova edizione non solo porchetta per la sagra Campli rilancia sulla cultura arte musica e l'intitolazione a Gian Mario Sgattoni della sala multimediale avevamo anche vi avevamo proposto anche un servizio nel Tg di ieri proprio sulla sagra della porchetta infine altra tipicità la capra alla neretese tutto pronto per la settimana del gusto nella cittadina in provincia di Teramo e arriviamo a proposito di Teramo alla pagina dello sport a tutta pagina perché riparte la stagione ieri c'è stato il sorteggio delle prime tre giornate del nuovo campionato la cerimonia che si è tenuta all'Aurum di Pescara prime tre giornate perché ci sarà un prologo un rinvio nelle prossime settimane quando il 24 agosto nel corso del Consiglio federale ci sarà il sorteggio delle restanti giornate tutto questo perché il collegio di garanzia del CONI ha ammesso in campionato nel campionato di serie C le rende dunque le squadre passano a 57 tre i gironi da 19 e dunque si è deciso di sorteggiare solo le prime tre giornate ieri la cerimonia come dicevo all'Aurum di Pescara per noi c'era Jacopo Forcella andiamo a vedere il servizio sarà Mestre Teramo il primo impegno ufficiale dei biancorossi di Antonino Asta in campionato questo l'esito dei sorteggi di questo pomeriggio all'Aurum di Pescara della nuova serie C in un campionato che sarà a 19 squadre e dunque con il turno di riposo e a proposito di turno di riposo il Teramo riposerà alla seconda giornata di campionato dopo la trasferta di Mestre per poi tornare di nuovo in trasferta in uno stadio prestigioso il Romeo Menti di Vicenza contro la formazione veneta appena retrocessa dal campionato di serie B dunque per la prima partita in casa del Teramo bisognerà ancora attendere perché questo pomeriggio sono state estratte solo le prime tre giornate di campionato dei gironi A, B e C e allora un primo commento del presidente del Teramo Luciano Campitelli meglio di così non potevamo sperare però può dar sicure che che da queste due diciamo trasferte possa arrivare qualche bella soddisfazione quindi partire poi avvantaggiati oggi sicuramente ci aspettevamo che almeno per dare ai nostri tifosi la voglia di rivedere la prima partita dopo il riposo in casa però se è così non è che è così quindi non cambia niente ci dobbiamo impegnare noi a cercare di riportare qualche punto prima che facciamo la nostra prima partita in casa peraltro una neopromossa come il Mestre e una retrocessa come il Vicenza due squadre molto differenti tra di loro una che punta alla salvezza e un'altra che forse punta all'altissima classifica come il Vicenza tutte e due molto difficili perché il Vicenza sicuramente come il Padova sarà una di quelle squadre che puntano a vincere il campionato e noi l'altra dopo una una vittoria di campionato ci sarà il giusto entusiasmo perché una squadra di serie D le prime partite sicuramente sparano tutte le loro cartucce però noi giocheremo le nostre chance e sicuramente non partiamo per sconfitti bensì andiamo lì lotteremo su ogni pallone per cercare di ottimizzare e di fare il massimo dei punti peraltro la seconda giornata il Teramo riposa perché la Lega Pro la Serie C è tornata a 57 squadre dunque tre gironi dispari ve lo aspettavate se lo aspettava il Renate va nel girone del Terra ma sicuramente non ce l'aspettavamo sicuramente per noi è molto dispendioso perché perché essere l'ultima sia per il nord che per il sud sicuramente non è non è bello però viviamo in questo splendido posto e quindi io sono felice di vivere qui e di fare qualche chilometro in più per fare qualche trasferta peraltro metterebbe la firma anche per fare la fase finale che si svolgerà proprio a Pescara dal 4 al 9 giugno metterebbe la firma il Presidente Campitelli per essere col suo Teramo presente ma quando ho detto a Gravina quelle cose è perché ognuno di noi pensa in un certo modo e tutto può accadere quindi non è che partiamo né per sconvitti né per vittoriosi quindi questa squadra è una squadra nuova sul campo dovrà dimostrare di poter meritare innanzitutto una salvezza tranquilla e poi tutto quello che viene di più sicuramente sarebbe il massimo per cui è come se noi giocassimo in casa perché giochiamo in Abruzzo quindi noi siamo felici e orgogliosi di rappresentare oggi la Serie C come l'unica squadra d'Abruzzo quindi da questo lato sono molto contento per l'Abruzzo e quindi mi faccio carico anche verso tutti gli abruzzesi e i nostri tifosi di un impegno ancora più importante per tutto il campionato queste dunque le impressioni del numero uno bianco-rosso come detto in una giornata condizionata dalla questione rende di nuovo reinserito all'interno dei campionati di Serie C e dunque la terza serie nazionale passa a 57 squadre non è solo questa la spina che dovrà risolvere il presidente abruzzese Gabriele Gravina perché c'è anche il minacciato sciopero da parte dell'associazione calciatori che protesta contro le rose a 14 over e il pagamento delle mensilità di giugno che è slittato a settembre ascoltiamo le impressioni del numero uno della Serie C è un campionato nuovo e come ogni inizio ha sempre le sue speranze le sue ansie devo dire sono molto felice per la città di Rende senza voler intaccare o diminuire questa loro gioia devo dire che pur rispettando qualunque aspetto della decisione di un organo di giustizia all'interno del mondo dello sport credo che quello che è stato deciso oggi non è in linea con quello che noi portiamo avanti da tempo che è il principio della tutela dei valori dunque Mestre Teramo domenica 27 agosto alle 18.30 probabilmente sul campo di Portogruaro da qui fino alla fase finale che novità del giorno insieme al nuovo logo della Serie C si giocherà proprio a Pescara dal 4 al 9 giugno ci sarà la finale la fase finale che designerà chi sarà promosso nel prossimo campionato di Serie B e questa dunque l'ampia e doverosa pagina sui calendari di Serie C curata da Jacopo Forcella torneremo a parlarne ovviamente oggi nel corso delle varie edizioni del TG6 ora siamo invece al capitolo Pescara siamo sul centro Pescara che torna in campo questa sera alle 20.30 allo stadio Rigamonti di Brescia si giocherà Brescia Pescara per quanto riguarda la gara del terzo turno preliminare di Coppa Italia Brescia Zeman Lancia Perrotta Coulibaly e Gans chi passa il turno a fine novembre affronterà la vincente di Sampdoria Foggia intanto ieri è arrivata la firma vedete anche la foto di Elizalde 17enne che arriva dal Wanderers Montevideo intanto mezza Serie B è su Nicastro Lavellino vuole Fornasier Udinese Atalanta insistono per Zampano il Delfino chiede 2 milioni in basso Memusha il Delfino sempre ovviamente parliamo del Pescara deve 18 mila euro al canaletto questa è la notizia che riguarda il giocatore albanese perché la Corte d'Appello ha condannato la società a pagare il premio alla carriera al club dove è cresciuto il giocatore albanese ma noi torniamo un attimo alla partita di questa sera di Coppa Italia vedendo da questo grafico quali potrebbero essere le due formazioni che scenderanno in campo i 22 che scenderanno in campo al Mario Rigamonti Pescara ovviamente il 4-3-3 quello canonico di Zeman con Fiorillo in porta che dovrebbe essere preferito ancora una volta Pigliacelli poi difesa con Mazzotta e Zampano laterali per rotta e coda centrali centrocampo con Brugman Proietti e Culibalini avanti il trio d'attacco formato da Capone Gans e Latte vediamo anche la panchina Pigliacelli Delicarri Crescenzi Valzania Carraro Palazzi Selasi Pettinari Cappelluzzo e Del Sole questi sono tutti giocatori convocati non sono stati convocati quei giocatori che sono in procinto di lasciare il Pescara per quanto riguarda invece il Brescia 3-5-2 il modulo adottato da Roberto Boscaglia con Gagno in porta poi Bagadur Lancini in difesa Somma Bisoli Indoi Cattaneo Ecoli a centrocampo Torregrossa e Caracciolo in avanti andiamo a vedere le altre pagine dello sport del centro e poi vedere quelle del messaggero per quanto riguarda i calendari Teramo la nuova serie C parte in salita ne abbiamo parlato ampiamente con il servizio di Agopo Forcella e poi una notizia che riguarda la serie D perché Aiello è il nuovo allenatore dell'Avezzano Antonio Aiello per quanto riguarda invece le altre formazioni l'Aquila punta Padovani come detto tutte le abruzzesi e questa è una notizia importante sono state inserite nel girone F dunque saranno sette le nostre squadre nel girone F andiamo a vedere anche il titolo che riguarda il calcio a 5 scatta la nuova stagione Pescara e Acqua e Sapori a caccia dello Scudetto vediamo le gare della prima giornata il 23 settembre per quanto riguarda il Pescara ci sarà la gara interna con la neopromossa Futsal Cisternino formazione pugliese per l'acqua e sapone trasferta a Napoli e chiudiamo con le pagine dello sport del messaggero Pescara esame a Brescia abbiamo visto il tecnico schiera una difesa inedita il messaggero parla di Delicarri e Perrotta per il centro dovrebbe giocare coda vedremo solo stasera quale sarà all'11 di partenza e poi Mancuso e Nicastro ancora fuori causa e poi vediamo anche sul messaggero il titolo che riguarda il calcio a 5 partenza soft per il Delfino Acqua e sapone l'avvio è invece in salita Pescara che affronterà il Cisternino l'Acqua e sapone che se la vedrà con il Napoli in basso il basket Roseto cerca il colpo grosso e tratta Cerella l'altra pagina di sport riguarda ancora il calcio Teramo al debutto subito due trasferte Avezzano senza tecnico ma abbiamo visto dal centro che sarà Aiello il nuovo allenatore della formazione Avezzanese che prende il posto di Emarino che era stato esonerato e poi le altre squadre di serie di L'Aquida c'è Boldrini adesso parte assalto a De Iulis attese nelle prossime ore le risposte di Meloni e Ranelli in basso ancora calcio di serie D le abruzzesi tutte nello stesso girono lo abbiamo già detto anche in precedenza per quanto riguarda Lavastese oggi ci sarà la festa bianco-rossa si rinnova l'appuntamento dei tifosi alle 19 all'Arena delle Grazie e noi siamo giunti al termine così di questo appuntamento di oggi di sabato 12 agosto con Mattino 6 appuntamento che tornerà puntuale lunedì sempre alle 8 e ringrazio Silvia Gentile per aver curato la parte tecnica e la regia ringrazio voi per averci seguito per quanto concerne i prossimi appuntamenti informativi della nostra rete come sempre vi ricordo alle 14 la prima edizione del TG6 grazie per averci seguito dalla nostra redazione l'augurio di un buon proseguimento di giornata grazie per averci seguito grazie per averci seguito grazie per averci seguito